Abbostanza per un sicuro. Fermo sulle ginocchia, vedremo l'amore, non so perché. Non arresta la forza, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale, che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole becchiare, più forte di me. Quando arriva la morte, resto sola con me. La testa parte e vai in giro, cerca le suoni perché. Le vincitori ne vinti, se ci scompiti a metà, la vita può non sannarci, l'amore continuerà. Fermo sulle ginocchia, vedremo l'amore, non so perché. Fermo sulle ginocchia, vedremo l'amore, non so perché. Sare più forte di me. Non si prende la sua forza, si prende quella perezza, che in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sare scendendo dagli occhi, solo adesso dov'è. Mentre il dolore sul foglio, sento che accanto a me. E le parole nell'aria, sono parole alla metà. Ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Quando arriva la notte, la notte, resto sola con me. La testa parte e va in giro, in cerca le suoni perché. Le vincitori ne vinti, se ci scompiti a metà, la vita può allontanarci, Un attimo l'amore pare, non workingerà. Quando arriva la notte, la notte, del resto sto là con me Da' questa parte va in giro, in cercare sfori pe te Deveci i giorni le trinti, si asceglie con biblia, la vita può nascere, l'amore va continuerà Grazie 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 Allora, Giorgio, per chi lascia stare questo brano di Arisa? Perché mi piace, cioè mi piace la canzone di Arisa da quando l'ho ascoltata a Serena e poi, beh, un po' non mi rispetta Ah, ecco, senti, tu quanti anni hai? 15 15? Oh, sono tutti i miei Yeah E tu cosa fai? Studi Vai a scuola e sei il cosiddetto? Sì, sei dall'artistico All'artistico, questa non è mia Quindi, sto tra qui Beh, allora, sei l'artistico, cosa fai? Pittura? Ancora un'artistico Ancora un'artistico Perché è dal cazzo anno, giusto? Ok Senti, la musica, da quanto tempo hai deciso di provare a cantare? Da quest'anno Da quest'anno Beh, da quest'anno, insomma, si continui così, eh Allora, ho visto una persona che conosco molto bene qui in platea perché c'è la mia prima insegnante di canto Che qui stasera l'ha saputo che è Cleofer Guedio E... e proprio... Lei che diceva, ma stonati perché non si è diseducati E poi quando facevo qualche sticca la vedevo al pianoforte e faceva Che che insegnante di canto Appunto È inutile che ci illudano, no? Ogni tanto si stona E c'è poco da fare Chi è? Senti Senti, un'ultima cosa che volevo chiederti Hai cantato anche... canterai domani sera un altro brano? Un brano edito o inedito? Inedito Inedito Infatti, vi ho ascoltato ovviamente, eh Io su internet Perché prima di presentarvi Mi piace sapere che cosa dovrò presentare Che cosa faremo Poi domani magari avremo modo anche Per i ragazzi di parlare un po' di più Conocerci un po' meglio Perché mi piace che vi sentiate Di un gruppo che è una cosa Che si muove per competere in un mondo o l'altro, no? Grazie ancora a quest'anno Ci vediamo